Un'economia piacentina ambivalente, in cui crescono l'industria, l'export, la meccanica e gli arrivi turistici, ma calano le edilizie, l'artigianato, il numero di imprese attive e le notti trascorse negli alberghi. È la fotografia del sistema provinciale che viene restituita dal 36esimo rapporto della rivista Piacenza Economia, Lavoro e Società relativo al primo semestre del 2019, ben prima quindi dell'emergenza coronavirus, a cura di provincia di Piacenza, Camera di Commercio e Università Cattolica. Per quanto riguarda l'industria, Piacenza sembra procedere in controtendenza rispetto all'indebolimento del panorama regionale e nazionale, cui infatti le aziende riportano andamenti ancora positivi, anche se in leggera decelerazione. Gli scambi commerciali con l'estero nei primi sei mesi del 2019 registrano un aumento del 7,9% rispetto al dato emerso nel corrispondente periodo del 2018. Il rapporto mostra una ferita profonda tra le imprese attive, ovvero 257 unità in meno. La riduzione più significativa fa capo al settore dell'agricoltura con 123 imprese in meno. Anche i comparti del commercio e delle costruzioni hanno subito una diminuzione di ditte attive.